salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un upgrade non tecnologico a un prodotto molto tecnologico sì perché ho fatto un upgrade a lui il mio works l'android e questo robottino tagliaerba che ha compiuto a giugno cinque anni si è cinque anni che lavora nel mio giardino e vi assicuro che lavorare sul mio giardino è veramente faticoso perché comunque col fatto che c'è stato per tanto tempo un cane quindi il terreno non era del proprio dei più semplici da tagliare l'erba quindi un po di buche scavate qua e là a pezzi e tutto e lui ragazzi è davvero un mulo un mulo instancabile però un mulo instancabile che a un certo punto ha avuto bisogno di un upgrade e l'upgrade di cui vi sto parlando ragazzi è questo sì perché la parte che si è usurata di più di questo piccolo robot ovviamente oltre alle lame che quelle si cambiano facilmente diciamo è normale che vengano sostituite dopo tanti tagli non sono le batterie che era la cosa che pensavo invece lui ancora all'interno le sue batterie originali cioè cinque anni che lavora con le sue batterie anche se ovviamente adesso hanno una capacità un pochino inferiore rispetto a prima durano un pochino meno a livello di tempo ma fanno ancora il loro lavoro poi l'anno prossimo magari penseremo a sostituirle ma l'altra parte che si è consumata davvero tanto sono le ruote infatti le sue ruote ragazzi guardate in che condizioni sono non hanno praticamente più i tasselli sono consumatissimi e vi metto appunto adesso confronto come erano le ruote quando erano nuove sì perché finché le ruote sono nuove ok tutto è perfetto lui non ha nessun problema poi dipende uno che giardino a però quando le ruote arrivano in queste condizioni diventa davvero faticoso per lui a fare alcune manovre senza andare a slittare quando le ruote sono nuove non slitta mai a meno che siano proprio in condizioni assurde e io anche un po di giardino oltre che come abbiamo detto sconnesso ho anche delle piccole salitelle da fare e diciamo che lui si è sempre comportato benissimo però adesso avevo notato che c'era un problemino cioè quando andava a fare alcune manovre le ruote iniziavano a slittare come state vedendo nel video appunto questo slittare cosa causa uno che lui non si muove più perché inizia a slittare e sta fermo e poi comunque va a scavare in quella posizione in cui la ruota continua a slittare come una macchina che slitta sulla neve e scava la buca o sulla sabbia sulla terra e a furia di ruotare alla fine scava una buca e allora la possibilità era o sostituirgli le ruote quindi andare a sostituire le ruote con delle ruote nuove o andare a mettere questi dischi rotanti che sono veramente ragazzi una cosa incredibile li ho acquistati su amazon vi lascio qua sotto i link in descrizione costano intorno ai 35 euro questi qua che ho acquistato io poi ce ne da prezzi un po più cari ma è lo stesso identico prodotto quindi io vi lascio il link di quelli che ho acquistato io e ragazzi vi cambia tutto adesso nel mio caso è assurdo perché vedete il dente di metallo che è nettamente più alto di quello che è il dente rimasto della ruota se invece comprate questi dischi dentati li andate a mettere su delle ruote nuove ovviamente loro avanzeranno su pochissimo rispetto alle ruote appunto nuove qua invece guardate che dislivello praticamente lavorano solo loro in questo momento la ruota non lavora più perché è talmente consumata che si è abbassato tantissimo lo spessore del dente però vi assicuro che lavorando anche solo loro adesso è uno spettacolo uno non slitta più due non vi scava più quando non riesce a fare le manovre anche quando soprattutto è bagnato il terreno è umido e l'erba è umida quindi è più facile allo slittamento con questo non slitta mai e poi non vi lascia mai nessuna traccia nel giardino che quando fa le manovre ovviamente essendo poi molto sottili lavora che è uno spettacolo nel fare le manovre sempre in trazione quindi è davvero stato un acquisto secondo me incredibile più che le sue ruote nuove secondo me l'effetto qua è davvero ottimo allora questo sistema vi arriva in questo scatola quindi una scatoletta molto semplice trovate le ruote trovate le viti per andare a fissare quello che è il disco dentato e poi trovate un manuale di istruzioni con le varie lingue tra cui anche l'italiano che vi spiega come andare ad installarlo però detto tutto questo adesso è arrivato il momento di farvi vedere come le ho installate e poi vedere come si muove lui con queste ruote dentate in metallo iniziamo il montaggio innanzitutto vi serve un giravite torx t20 per avvitare le viti che hanno questo tipo di formato per quanto riguarda la testa della vite dopodiché arriva la parte più complicata centrare il disco di metallo sul cerchio aiutatevi magari con quei tre raggi in plastica per diciamo prendere le misure e iniziate a puntare la prima vite non avvitatela subito fino in fondo così che potete andare a muovere ancora il cerchio di metallo per mettere la seconda vite e centrarlo in maniera più precisa possibile dopodiché una volta che avete messo le prime due viti potete continuare ad avvitare tutte le altre viti quindi una dietro l'altra e poi potete andare a stringere io vi consiglio in maniera manuale le viti come ultima stretta finale non con il trapano perché comunque la plastica è una plastica molto morbida dopodiché passate all'altro lato e andate a centrare e fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto sulla prima ruota e alla fine stringiamo sempre in maniera manuale come stretta finale le ruote e siamo pronti a far partire il nostro works l'android o il nostro robottino tagliaerba anche di un'altra marca perfetto avete visto che il montaggio comunque è facile dal punto di vista pratico perché basta solo avvitare queste viti nella ruota che poi un materiale morbido come avete visto anche nel video dell'installazione che ho effettuato io è l'unica cosa è solo stare attenti nella fare centrare il disco di metallo sul cerchio della ruota per il resto è uno spettacolo e avete visto come lui che grip incredibile che ha nel muoversi anche sulla salitella che ho nel mio giardino nel fare le manovre cioè veramente è un acquisto secondo me super super consigliato cioè ridate vita a delle ruote straconsumate e dandogli però un qualcosa in più rispetto anche a quelle originali che trovate quando lo acquistate quindi io andrei ad installarle veramente anche su un prodotto nuovo per dargli un grip pazzesco e poi non andate a usurare le ruote così come lo usurate io perché questo è un'usura comunque di cinque anni però è stata un'usura molto molto accentuata secondo me è andato via quasi un centimetro se non un centimetro uno 8 mm di plastica se ne sono andati tranquillamente quindi ragazzi se questo mio video non tecnologico ma di un upgrade a un prodotto tecnologico vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante unità anteprime spoiler tantissime cose arrivano su instagram quindi vi invito a seguirmi anche lì sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video